Si fa prima a elencare i seggi, tre nei quali ha avuto la meglio Ennio Palazzari, insieme magari agli altri altrettanti, nei quali si può dire che ha perso di poco da Filippo Mario Stirati, per analizzare nel dettaglio l'andamento del confronto tra i due candidati che il prossimo 8 giugno si contenderanno la fascia tricolore per la città di Gubbio. D'altro canto, il 41,01% messo insieme dal candidato delle liste, Stirati Sindaco, Scelgo Gubbio, PSISL, contro il 25,61% di Palazzari, appoggiato da PD, Popolari per Gubbio e Impegno per Gubbio, difficilmente lascerebbero ipotizzare un risultato diverso. Vittoria dunque di Stirati in 31 dei 34 seggi, con il massimo scarto nella sezione di Morena, oltre 70 contro 13,5%, ma differenza rilevante anche nel seggio numero 1, edificio scolastico, 54 contro 21. Il minimo scarto con il quale Stirati ha battuto Palazzari è stato invece nel seggio di Cipolleto, 1,5 punti percentuali circa. Ecco perché appunto la notizia sono i tre seggi nei quali ha avuto la meglio Palazzari, che sono quelli di scritto col Palombo e Camporeggiano. Il confronto tra l'andamento delle liste seggio per seggio dà la misura del cambiamento politico avvenuto rispetto alle precedenti elezioni amministrative. Messa da parte la variabile Movimento 5 Stelle, che si connota per una certa trasversalità, l'analisi dei dati mostra come ad esempio tre anni fa nel seggio numero 1, edificio scolastico, il PD portava a casa il 18,8% contro il 12,97% della Federazione della Sinistra, mentre il PDL era oltre il 28%. Oggi stesso seggio con rifondazione a l'1,70 e Forza Italia al 6,64, il PD ha messo insieme il 10%, mentre la lista Stirati Sindaco è nata da una componente di quel partito, il 30%. Ancora a Gubbio Centro, ma seggio numero 10, Scuola Ottaviano Nelli. Qui tre anni fa la Federazione della Sinistra aveva messo insieme quasi il 15%, contro il 34 e passa del Partito Democratico, con il Popolo della Libertà intorno al 13%. Ebbene stesso seggio oggi rifondazione al 3,65%, PD al 16%, Forza Italia al 3%, mentre Stirati Sindaco sfiora il 28%. Dalla città alle frazioni con il seggio numero 31 di Mocaiana, nel quale tre anni fa la sfida era tra Federazione della Sinistra con oltre il 30% e PD che chiusa il 26%. Oggi nello stesso seggio la lista Stirati Sindaco a portare a casa oltre il 25% dei consensi, poco sotto al PD che conferma la sua percentuale delle precedenti amministrative. Al seggio numero 25 di Branca, infine nel 2011 il PD aveva il 33% e la Federazione della Sinistra il 25%. Qui oggi Rifondazione registra la sua miglior performance della tornata elettorale, fermandosi al 17% circa, mentre il PD scende al 13%. Tutti i voti che anche in questo caso sono finiti probabilmente nel 21% della lista Stirati Sindaco.